E' aperta da due giorni la bretella che collega la città all'autostrada a 19. Nel silenzio totale è stata riaperta un'arteria che a causa della prolungata chiusura ha congestionato notevolmente l'economia cittadina. Aperta sì, ma sempre con notevole ritardo rispetto alle promesse troppe, tante, fatte dalla ditta che si sta occupando dei lavori della 640, e in un silenzio indifferente delle istituzioni, fatto salvo qualche guizzo di un gruppo di consiglieri comunali. Numerosi gli annunci di richiesta di risarcimento o danni alla città. Ma solo annunci l'amministrazione mute ed immobile e gli altri a seguire con alterne fortune. Il Consiglio Comunale, che rappresenta il popolo elettore, dopo un primo momento in cui pare forse una delle poche volte in cui stavano uscendo tutti i compatti nella decisione di intraprendere un'azione legale comune, qualche battitore libero, il Pierino di turno, ha voluto fare una fuga in avanti per attribuirsi una paternità. E dunque l'alleanza si è rotta, ed i consiglieri che avevano firmato un documento per la richiesta di risarcimento da mettere all'ordine del giorno in Consiglio Comunale hanno ritirato le firme. E siccome la cronaca vuole, pretende nomi e cognomi, la causa delle rotture è stato l'Udc, uno dei partiti dell'alleanza. Ma oltre alla politica, che altro la gente e i cittadini hanno fatto? Tanto parlare sui social, ma nulla di più. Adesso il risarcimento dei disagi subiti dovrebbe arrivare al di là delle primi geniture. Ritornando alla bretella in senso stretto, ovvero alla percorribilità, al momento di una sola corsia per entrambi i sensi di marcia, tuttavia abbastanza grande per rendere il traffico scorrevole.